Buongiorno, ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano mattutino con la rassegna stampa. Andiamo ad analizzare quelli che sono i titoli in primo piano nelle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, quest'oggi, lunedì 15 aprile, per andare ad approfondire quelli che sono i temi caldi, inerenti la cronaca, l'attualità, la politica, l'economia, ma anche lo sport. Ovviamente il nostro giro inizia proprio dai quotidiani siciliani ed è il turno della Sicilia. Ecco allora in primo piano la notte della ragione, il mondo in ansia per la possibile risposta di Israele dopo l'attacco frontale dell'Iran. Biden e i leader del G7 frenano i falchi, ma Teheran pagherà al momento giusto. Sono due i fronti in questo momento, grave una bimba, Teheran in festa, sionisti sono stati puniti. Lo scenario è che sono stati intercettati il 99% di droni e missili, intanto però si fa strada nuovamente l'incubo del nucleare. E poi la riapertura degli impianti, cambiamo argomento, a Cireale Sciacca c'è il patto delle terme, disponibili fondi per lo sviluppo e la coesione. Il calcio ossigeno puro, il Catania supera il Messina con un rigore di Di Carmine e allontana lo spettro play-out. In eccellenza invece Enna e Nissa in festa, promosse in Serie D con ben due turni di anticipo. Torniamo sulla pagina locale, Catania, donazione e trapianti, liste d'attesa ridotte, quindi buone notizie per la sanità locale. A Militello tre dipinti rubati tornano a casa e poi Giardini Naxos schianto sull'A18, Centauro rinviato a giudizio. Dalla Sicilia, ci spostiamo al giornale di Sicilia, vediamo cosa ci offre quest'oggi in primo piano. La pace nelle mani di Israele, ovviamente anche in questo caso parliamo di guerra in Medio Oriente. è intercettato il 99% degli oltre 300 droni e missili lanciati nella notte da Teheran. Gravemente ferita una bimba di 7 anni. Spaventa la reazione di Netanyahu, risponderemo all'Iran, ma il suo gabinetto di guerra per ora non decide né come né quando intervenire. Intanto la diplomazia degli USA al lavoro per evitare un escalation e poi ieri festeggiati i 40 anni della Lega Bossi assente alla festa, Salvini in difficoltà. Fissato intanto il calendario scolastico del prossimo anno nell'isola in Sicilia, ritorno fissato per il 12 settembre. Atto di nascita del quarto policlinico, Regione e Università di Palermo, fatto l'accordo siglato per 350 posti da creare al Santa Elia di Calta Nissetta. E poi nel taglio inferiore c'è spazio anche per il calcio. In serie B, Palermo, nuovo corso, si aspetta la vittoria. In serie A, di casta male, partita sospesa a Udine, Inter soltanto un pari, ma lo scudetto è sempre più vicino. E poi in eccellenza, come accennato prima, promozione in serie D per Nissa e Enna con ben due turni di anticipo. Ci spostiamo adesso sulla Repubblica, iniziamo il nostro giro dei quotidiani nazionali. Israele prepara la risposta e il gabinetto di guerra riunito da Netanyahu dal via libera ai piani di ritorsione militare contro l'Iran, ma non specifica tempi e modalità di reazione. Biden è contro l'escalation e promette una forte iniziativa diplomatica del G7. Intanto la guida suprema a Khamenei, afferma Gerusalemme, sarà in mani musulmane. Il mondo si divide, l'Occidente si stringe attorno allo Stato ebraico, invece Russia e Cina si schierano a favore di Teheran. Dalla Repubblica passiamo al tempo, vediamo cosa ci offre quest'oggi in primo piano. Anche in questo caso conflitto in Medio Oriente, attacco a Israele, l'allarme scatta anche in Italia. Torna la minaccia islamista, piante dosi, allerta massima. Netanyahu reagiremo, Biden prova a mediare, ma Khamenei, Gerusalemme all'Islam. Intanto Meloni a Palazzo Chigi per il G7 condanniamo, ma non siamo a favore dell'escalation. E poi nel taglio superiore effetto Vinitaly, vino da record nonostante l'Unione Europea. Sapete che in questi giorni si sta svolgendo a Verona il Vinitaly. Da ieri fino a mercoledì sono oltre 6 milioni le notti trascorse tra le vigne italiane degli enoturisti, ma l'Unione Europea mette a rischio la produzione. E poi sport, grande spavento ma è fuori pericolo. Sospesa Udinese-Roma, ma l'ora in campo per il giallorosso Ndicà. E poi dopo il torto a Sinner parliamo di tennis. Var adesso obbligatoria, il tennis si adegua. Ci spostiamo invece adesso sul Corriere della Sera. Vediamo cosa ci offre quest'oggi. Biden lo stop a Netanyahu. Il leader degli USA, prendete la vittoria e adesso fermatevi. Israele invece risponderemo all'Iran a tempo debito. Intanto il G7 no all'escalation. Sapete che sono stati intercettati il 99% dei droni e missili lanciati dall'Iran che ribadisce. L'operazione è conclusa. Intanto Piantedosi convoca il Comitato per la Sicurezza. E adesso diamo uno sguardo invece al fatto quotidiano. Anche in questo caso parliamo di guerra in Medio Oriente. L'Iran abbaia ma non morde. Israele non vuole più fermarsi. Attacco telefonato. Droni missili annunciati e abbattuti al 99%. Zero vittime. E poi è ancora emergenza. Siccità al sud. Tre riunioni. Due relazioni in nessun piano. In caso di siccità governo fermo a un anno fa. Tutti i flop del super commissario. E adesso diamo uno sguardo invece alla stampa. Vediamo cosa ci offre quest'oggi in primo piano. Iran, Biden, Frena, Netanyahu. Gerusalemme risponderemo a tempo debito. Intanto la Casa Bianca non parteciperemo al contrattacco. E poi parliamo anche di politica nella spalla a destra del quotidiano. Il passo 2 di Shlein e Meloni. La sfida con Conte va totalmente fuori controllo. E andiamo adesso sul libero. Vediamo quest'oggi ancora una volta. Ovviamente. Guerra in Medio Oriente. L'attacco dell'Iran a Israele. La sinistra col turbante. PD e Movimento 5 Stelle faticano ad esprimere solidarietà piena allo Stato ebraico. Tra i democratici c'è chi fa il cerchio bottista. Poi la Shlein prova a metterci una pezza. Ma il più ambicuo è Conte. E adesso invece ci spostiamo sulla nazione. Vediamo in questo caso quest'oggi in primo piano lunedì 15 aprile di cosa parliamo. Ancora una volta guerra in Medio Oriente. Avrete capito che è questo l'argomento del giorno. O meglio l'argomento più trattato nelle ultime settimane. Il mondo ferma l'escalation della guerra. Questo il titolo scelto dalla nazione. Neutralizzati i missili e droni dell'Iran su Israele. Tel Aviv rinuncia a reagire dopo le pressioni di Biden e del G7. Appello a Teheran. Basta attacchi. E intanto poi ci spostiamo anche sulla politica. Come sapete ieri festeggiati i 40 anni della Lega. Questa è la notizia trattata nel taglio inferiore. Salvini schiva le polemiche. Bossi parole per crescere. Intanto PD e Movimento 5 Stelle. Fico afferma. Probabile un patto di legalità. Nel taglio inferiore c'è spazio anche per la sanità. Carta Bellotta e Fondazione Gimbe. Sanità pubblica necessario rafforzarla. E poi lo sport. Uno sguardo al calcio. Sospesa Udinese Roma. Malore in campo. Paura per Nika. Questa l'ultima notizia del taglio inferiore. E poi ci spostiamo sul giornale. Vediamo cosa ci offre quest'oggi. Guerra in Medio Oriente anche in questo caso. Israele e Occidente respingono l'Iran. Abbattuto il 99% degli ordini di Teheran. Decisivi la tecnologia e l'aiuto degli alleati. Anche sunniti. Il G7 intanto afferma no all'escalation. Più volte è stato ribatito dal G7 nelle ultime 24 ore. Non siamo a favore di un escalation. Non farebbe altro che alimentare quello che è il conflitto in questo momento in Medio Oriente. Era questa l'ultima notizia dei quotidiani nazionali. Perché adesso ci spostiamo in quelli nazionali ma sportivi. Iniziamo il nostro giro proprio con la gazzetta dello sport. Malore per Indica. Partita sospesa. Paura in campo. A Udine si accascia dopo una botta al cuore. De Rossi chiede lo stop. Si esclude l'infarto. La Roma fa sapere Indica sta bene. Si rigiocherà il match a partire dal 72esimo minuto. Con il risultato ovviamente di 1 a 1. E poi Inter se vince contro il Milan è scudetto. Inter derby a due stelle. Questo è il titolo scelto. Inzaghi intanto frena col Cagliari. E dice festa lunedì sarebbe stupendo. Pioli soffre col sassuolo ma afferma saremo motivatissimi. Ovviamente per portare i tre punti a casa nel derby. Derby cosiddetto della Madonnina. Ci spostiamo adesso invece sul Corriere dello Sport. Paura per Indica. Anche in questo caso parliamo del giocatore giallorosso. Udinese Roma sospesa al 72esimo sull'1 a 1. Livoriano accusa un malore e crolla a terra. Dolori al petto. È in ospedale ma si esclude l'infarto. Esce in barella. Possibile trauma contusivo dopo uno scontro di gioco. Intanto De Rossi e la squadra sempre al suo fianco. Ovviamente notte in osservazione. E poi ancora Inter. Se lunedì 22 batte il V, il Milan è campione d'Italia. L'Inter inizia a vedere le stelle. Inzaghi fa 2-2 col Cagliari. In gol Turam e Shumordorov. E poi Ciala e Viola. Nerazzurri sempre a più 14 su Pioli che stecca in casa del sassuolo. E conclude 3-3. Diamo adesso uno sguardo invece a Tutto Sport. Malore per il difensore. Udinese Roma sospesa. Sollievo indica un gol alla paura. Il giallorosso al 72esimo si tocca il petto e si accascia. Momenti di panico. I giocatori non se la sentono di continuare. Escluso l'infarto. Intanto un post del club giallorosso tranquillizza tutti. Questa è la notizia del taglio superiore. Andiamo adesso nel taglio medio. Vediamo cosa abbiamo anche in primo piano. Baggio vota Zirkzee e lancia Ildiz. Dall'ex fuoriclassi a Tutto Sport parole esclusive di rilancio per la Juve. L'asso del Bologna ha grande talento e ampi margini di crescita. Il turco mi piace molto, ha qualità incredibili. Umiltà e profondità. Sinner mi ha colpito. Per Kenan invece è pronto il rinnovo fino al 29. E poi ancora Milan. Folli pareggi con Sassuolo e Cagliari. Milan difesa da horror. Ma intanto l'Inter si incarta. Per festeggiare lo scudetto nel derby di lunedì. I nerazzurri saranno ovviamente obbligati a vincere. E poi i tre ragazzi intoccabili del Toro. Buongiorno Ricci e Bellanova. Solo Toro. Il progetto Europa è la crescita delle ambizioni. Non possono prescindere dalla loro conferma. Sono queste le ultime notizie che abbiamo letto proprio su tutto sport. Ovviamente sapete che il lunedì all'indomani del weekend all'insegna del calcio sono tantissime le notizie. Le ultime due che abbiamo letto, quelle in primo piano, sono ovviamente il malore di Ndika. Che abbiamo detto essere fuori pericolo. Ma ovviamente sottoposto ad accertamenti importanti. E poi l'Inter vincerà lunedì in occasione del derby. Finalmente lo scudetto tanto atteso nel corso di questa stagione. O dovrà ancora aspettare il prossimo match. Ovviamente se frenerà i festeggiamenti saranno rimandati alla prossima partita. Siamo giunti al termine di questo appuntamento quotidiano mattutino con la rassegna stampa. Abbiamo analizzato quelli che sono i fatti in primo piano. Ovviamente molta cronaca legata alla guerra in Medio Oriente, agli ultimi attacchi ai droni intercettati. Abbiamo detto zero vittime, una bambina di sette anni però gravemente ferita. Le decisioni politiche in merito a questo conflitto, alcuni temi di sanità, politica e attualità. E poi ovviamente, come abbiamo detto, spazio a tanto sport. Siamo giunti al termine, io vi ringrazio per averci seguito. Vi do appuntamento con le prossime edizioni dell'informazione del Tg di Spazio Notizia. Vi ringrazio ancora una volta per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di visione sui nostri canali. Vi ringrazio ancora una volta per averci seguito.